Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuiamo la nostra avventura dei gamberetti signori Allora, prima di partire dal video io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ricordo di fare un salto anche sul secondo canale, mi trovate come Maullo941biz in cui portiamo altri gameplay, altri videogiochi, altre serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook Dove tramite appunto i social vi informo su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola Di solito qui su YouTube mi trovate ogni sera alle 21, eccetto il sabato Detto questo ho dato un'occhiata ai link in descrizione al video per rimanere sempre collegati con tutto quello che esce Con tutte le cose più importanti e non per ultima cosa vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti E per il supporto che date sempre a questa serie e al canale Detto questo signori non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok signori, allora partita contro Wigam Partita contro Wigam, se non ricordo me l'ultima volta abbiamo fatto un po' di turnover Che direi va bene anche così Direi anche va bene così L'altra volta hanno giocato stock nelle Smith Facciamo un cambio completo La giocano Aladino e il nostro ragioniere Sulla destra lasciamo Magri Che è un poco triste Che non abbiamo spazio So un gol abbiamo vienuto Quindi c'è Chissene Ah Will Piccola Luna continua a giocare Qui torna Se mi si incacchia giardino sono capoli amari Mel Gibson va bene In difesa facciamo giocare Grievous e Clark Kent Sulla destra torniamo con Melone In porta gioca l'Ray Il gioca l'Ray E in panchina diamo un turno completo di riposo a Stockholm E ci riportiamo Miura Che non ha un'ottima forma fisica Quindi lo faremo anche giocare E si augurerà È inutile che hanno una forma fisica terribile Beati il be Auguri a chi si è comprato Son Go Soprattutto Auguri a chi si è comprato Son Go Detto questo signori Non perdiamo tempo Siamo quinti in campionato con 25 punti Wigan è sedicesimo Signori voglio i tre punti Come se non ci fossero domani Detto questo Scendiamo in campo Ok ok Calma e concentrati Calma e concentrati signori Tre punti oggi sarebbero importantissimi Tre punti oggi sarebbero importantissimi Abbiamo una squadra per poterli fare Abbiamo una squadra per poterli fare Anche perché nel senso tempo Deve entrare Miura Deve entrare il nonno signori Che da un po' che non gioca E si stava incavolando Quindi Fermo Bravissimo Bravissimo Aladino Grandissimo Aladino Aladino piazza No Ma che cos'era Sto straccio bagnato Aladino Attenzione Bellissima l'azione Giardino 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 Entra Al limite dell'aria Al limite dell'aria Giardino 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 Passaggio alla sua terra Per il piccolo Luna Parliamo Che arriva Will No vabbè Wilding Gli ha tirato addosso A chi è A ragioniere Vabbè A parte il fuorigioco Di tre giocatori Su undici Che ne abbiamo in campo Però va bene Fuorigioco di tre giocatori Su undici Però va bene Va bene Ancora Giardino 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 Che rientra Giardino Che rientra Vede Aladino Aladino Vede il ragioniere Il ragioniere Ci pensa un po' Troppo Scusatemi 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 Ma che cosa è successo Io ho visto Ho visto No ma questa No No Non ci credo No no Fermi tutti Fermi tutti No no Fermi tutti No 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 Aspettate un attimo Telecamera libera Aspettate un attimo Che qui c'è stato Telecamera libera No è lui È lui Signori Fermi tutti Fermi tu Fermi tu Fermi tu Cioè mi è volato Cioè Di cosa stiamo parlando Io di solito Non vedo mai Replay Signori Ma io penso Che questo sia Leggerissimamente fallo Ma proprio leggero Ma proprio leggero Questo è fallo Questo è fallo Signori Fallo a palla Lontana Cioè manco tanto lontana Me l'ha fatto volare No vabbè Dai Non mi ha dato nemmeno il rigore No vabbè Intervento del difensore Che concede la tuccia No 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 Solo rimesso laterale Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere Può ricevere la posizione interessante Pugnano No E si è fatto pure Aladino si è fatto pure male Aladino Vi purgo così Vi purgo Vi purgo così Dai così Dai così Wilding il nostro capitano Si è fatto male Aladino Signori Ma porca paletta Ambriaca Ma hanno rotta Aladino Ma hanno rotta Aladino Infatti Aladino per Miura Mi sa che Non ci posso credere Non ci posso credere Wilding festeggia Wilding festeggia Miura Aladino si sta tenendo La spalla E dolo E se Mamma mia Non ci posso credere Ora lo facciamo uscire Dalladino Signori Ora lo facciamo uscire Dalladino Attenzione Allora Limite dell'aria Buono 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 Blocchiamo l'azione No Attenzione E quindi Il Wigam Si sta un attimino svegliando Tra una che stiamo facendo Gli errori assurdi Ma il Wigam Si sta un attimino svegliando Alla fine del primo tempo Mamma mia Palla fuori Va bene 42esimo Noi ancora non abbiamo fatto La sostituzione Non è ancora entrato il nonno Perché non penso Riescare a reggere Tutto una partita Il nonno Quindi Ce lo stiamo tenendo con calma Altro fallaccio No ci posso credere Un altro fallaccio Signori Ma stiamo scherzando L'albitro non fischia niente L'albitro non fischia niente Ma stiamo scherzando Calma Calma Il ragioniere Il ragioniere Salta bene difensore Il ragioniere Il ragioniere Il ragioniere Il ragioniere Il ragioniere Il ragioniere Bellissimo Un eserimento Dificcolo Luna Bella così 2 a 0 La chiudiamo A fine primo tempo Signori La chiudiamo A fine primo tempo Bella così Bella così Bella così Comunque C'è stato un altro fallo Che non ho visto Però va bene L'albitro ha dato vantaggio Addirittura Va bene Va bene Finisce subito Così il primo tempo Va bene Dai Vediamo chi sono i morti E feriti della squadra Vediamo chi sono i morti E feriti della squadra Allora Rimaniamo un attimino collegati Aladino si è ripreso Magie 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 nere Però lo facciamo uscire Signori Facciamo uscire Aladino Per Per Miura Per il nonno E Piccolo Luna è distrutto Facciamo entrare Canon Al posto del piccolo Luna Va bene E Va bene così Per ora Va bene così Torniamo in campo Signori Secondo tempo Via così Attenzione Magri 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 Arriva la banderina Ma non c'è nessuno Al centro dell'aria Magri 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 Mamma mia Che brutto cross Che brutto cross Attenzione Parla lunga per Magri Sulla fascia arriva Cross La cross Nel centro L'ha leggermente spinto Comunque Io non vorrei dire Ma Leggermente spinto Il ragioniere Però va bene Oramai questa partita Stiamo vedendo di tutto Questa partita Stiamo vedendo di tutto Magri La cross Per Giardino 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 Vede Il compagno Troppo Attenzione Clark 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 No Tira muro Niente da fare Attenzione Allora Limite dell'aria Attenzione Meno male che c'è L'orei Meno male che c'è l'ori Ecco lo chiameremo l'ori Da oggi Signori Mi viene più facile Mamma mia che sole che c'è Impressionante Da quando in Inghilterra C'è questo sole Signori Di solito Piove sempre Guarda 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 Magri Grandissimo Magri Che parte su quella fascia Magri 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 Guarda il nonno Guarda il nonno Nooo Non era fallo mai nella vita Sto arbitro Vede quello che vuole lui Sto arbitro vede quello che vuole lui Signori Non era fallo mai nella vita Punizione per loro Scavitto sotto Questo voleva superare Nooo Nooo Ma mi ha messo un piede in faccia Vai nonno Fargli vedere chi sei Calma 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 Ce la facciamo uscire senza fare danni Ce la riusciamo a uscire senza fare danni No Sì Ci stiamo riusciti Ci stiamo riuscendo Ci stiamo riuscendo Serie di passaggi Serie di tiki-taka Guarda il nonno Guarda il nonno Guarda il nonno Che carico Guarda il nonno che carico Dove sta Magri Dove stai Magri Corri Magri Dai così Grandissimo L'accelerata di Magri Che la costa leggera Leggera il nonno Nooo E si dispera il nonno Guarda c'è più rughe che muscoli No è il nonno C'è più rughe che muscoli E il nonno No vabbè questo fischia come li gira lui signore Questo fischia come li gira lui Ma stiamo scherzando Ma non è la punizione Ma vabbè dai Questo vede Ha le allucinazioni Non È un medium Vede cose strane Vede cose strane Signore guarda la punizione Brava Lori Lori La controlla E uscire fuori Dai Ripartiamo Ripartiamo Ancora Magri 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 Arriva al limite Magri 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 La sterzata Che cazzo non la fa Ragioniere La chiude lui La chiude il ragioniere Signori 3 a 0 Dai così Anche contro l'albitro Signori Anche contro l'albitro Abbiamo vinto questa partita Anche contro l'albitro Che avevamo contro 3 a 0 Bellissimo Non si è capito che ha fatto il ragioniere Beh Gli ha tirato prima sul polpaccio Poi l'ha stoppata Per caso C'era il nonno libero al centro Non l'ho vista Se no gliela ho passato Per fare il gollo al nonno Va bene Va bene Attenzione Il nonno miura Cerca uno scatto Il nonno miura Cerca uno scatto Però Però il destro Il destro e il sinistro Ci sono ancora Signori 3 punti portati a casa L'importante era questo Ok Signori 3 punti importanti Che ci saldano Al quinto posto 28 punti Siamo a pari punti Con il Latton Con il Wacamp E' un punto Dal Doncaster Va bene Andiamo avanti Mantenendo Questi giocatori Così si allenano Anche loro Simona tutto Va bene Miura si sta allenando Bene così Bene così Dai dai Ogni tanto Bisogna cambiare I giocatori Signori Così gli allenamenti Li fanno un poco tutti Dai Simula Tutto Che ritrovano La loro forma fisica Perfetto Arriviamo Alla prossima partita Del 23 ottobre 2021 Contro il Il Chaltam Chaltam time Miura vuole giocare No Miura Non mi puoi chiedere questo Ora vediamo Cazzo meglio Li faremo giocare Il primo tempo Della prossima partita Va bene signori Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i sugeniti E per il supporto Noi ci vediamo Qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao